tenere dovrebbe tenere si tiene, tiene evitatevi che è morbido non è così no non è ma ci alza più non lo vuoi usalare veramente tiene è frenata si si tenere la marcia si un serialista si si non è fangosa ma perchè passa la marcia eh ognuno ha la sua e marcia si si è la guata bloccata si vai e marcia hai tutti e due i piedi che sei qui stavi intanto il freno dietro non ti serve se sei dentro la marcia vediamo 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 vediamo